Adesso basta parlare di oggetti ma voi andatela ad ascoltare, il link è qui sotto Si torna alla musica suonata e quindi voglio farvi vedere come ho realizzato durante la pandemia covid con le lezioni, cioè di continuarle, ho recuperato anche persone online, batteristi che magari le ho recuperati uno di Roma, l'altro di Napoli, tutto grazie al web e grazie ai vari collegamenti che adesso vi voglio andare a mostrare che cosa ho utilizzato qui andiamo a vedere proprio la strumentazione vera e propria ma prima di tutto ciò vi faccio conoscere il gruppo che ho creato su facebook andiamo a conoscere il gruppo ecco allora ragazzi non so se mi sentite, ora proviamo un attimino al microfono del computer, quindi andiamo, questo era il gruppo che avevo creato durante la pandemia covid il gruppo dove avevo inserito un gruppo segreto di facebook dove avevo inserito appunto tutti i miei allievi ci teneva, ci stavano, eravamo tutti in compagnia e durante appunto questa pandemia, vedi qui ci sono gli auguri di Frank & Ergenzie dove avevo appunto condiviso il suo appello qui verso il 13 aprile ho contribuito a questo, non so se registra ma credo di sì Michele Biondi nella quarantena, durante la quarantena andatelo a vedere comunque sul suo canale di Matt Cressy che ci sono io, vedete andatelo a vedere sul canale suo poi lì vi mando il link in descrizione questi sono tutti i miei allievi che si sono praticamente autoresistati questo invece è un altro pezzo, sempre in quarantena io che ho organizzato il 6 aprile, il giorno del mio compleanno un fantastico video messaggio sempre riferito ai miei allievi non spoilerò niente però, non voglio spoilerare niente i miei allievi, i miei allievi che si autofirmano sempre allievi, avevo fatto giornalmente, avevo preparato una sorta di esercizi giornalieri ecco, questo è un altro mio video, li avevo messo, tenevo compagnia in questa maniera drum lesson online andiamo a vedere dove è la mia live questa è una challenge che avevo fatto sulla canzone di Rocky altro mio allievo, mio allievo altri flamme, il flamme e qui ci sono io, avevo condiviso una mia vecchia data una drum cam fatta challenge, challenge, commenti, commenti, flamme qui non so cos'è, non mi ricordo neanche ok, sono sempre io ecco, qui mi mantengo, mi mantengo, mi mantengo mi se, cioè ragazzi, sono proprio dislessico stasera anche perché calcolate sono le 2 e meno 10 e quindi forse sto un po' accusando l'orario mi tengo aggiornato perché frequentavo giornalmente le fantastiche sessioni chiamiamole così di zoom con il grande Ruggero Pazzaglia qui altri esercizi esercizi, arriviamo, io voglio arrivare ad una mia live perché molte le ho cancellate, alcune invece le ho tenute, giovanotti poi la cosa carina, che secondo me questo senso di poi credo sia una bella idea, mi erano venute delle belle idee la cosa carina è che io periodicamente invitavo via, diciamo, web, ecco, nel telefono ospiti, invitavo ospiti, ore 20-30 circa cosa c'era? Parleremo di una formula, ma quale? e lì in quell'occasione ho invitato il bassista appunto dei Formula 3 con i quali ho collaborato andiamo avanti, andiamo avanti eccomi qua, in diretta il 16 marzo il 16 marzo, quindi teniamo buona questa data 16 marzo, questo sono sempre io siamo dentro il mio studio altra data, sempre il 16 marzo sono sempre io qui, pensavate di essere arrivati in meno ciao ragazzi, ragazzi, ciao ci vediamo oggi per il consueto video di Paradigdoll Plus Challenge e questa sera avremo una sorpresa l'orario è intorno alle 21 vediamo cosa succede questo sì, sono io che ho creato questa challenge con i miei allievi era un gruppo segreto, ripeto, quindi nessuno sapeva niente di niente 15 marzo Paradigdoll, vedete qui ci sono tutte le mie live dove studiavamo insieme praticamente ci tenevamo, diciamo, uniti durante questa pandemia avevo trovato questo sistema questo sistema, anche perché cosa fai? c'è tutto il giorno in casa Flashmob sonoro qua io ero in diretta il 12 marzo ma qui siamo già bene o male verso la fine io voglio, ecco, questa è la mia, diciamo intervista fatta per una scuola prima della pandemia Party of Time dopo mettere che sono ingressato ora quindi forse è il caso è un po' più magro all'inizio della pandemia eccolo qua ho creato il gruppo la batteria è esattamente il 10 marzo esattamente il 10 marzo io ho creato questo gruppo e col senso di poi ho deciso di aprire il canale YouTube e io partirei esattamente da qui oh, eccoci qua allora, io prima avevo velocizzato l'audio invece adesso andiamo ad ascoltare un estratto delle dirette che è appunto eseguivo durante la pandemia ma noi soffermiamoci più che altro sulla qualità dell'audio vero e proprio ecco qui faccio partire ola questo era un stavo facendo ricordiamo era il 16 marzo e stavo probabilmente facendo una dimostrazione di questo shuffle se notate se notate c'è il da questa parte qui il computer il mac qui avevo praticamente cosa facevo qui con questo computer per diciamo un discorso di comodità comandavo il Behringer XR18 non so se vedete il mio mouse qui giù avevo l'altro tablet dove c'era appunto il click questo piccolo mixerino in questo piccolo mixerino avevo collegato il tablet ma successivamente anche con un altro mixerino se non erro perché sto andando un po' a memoria ma ripercorremo questo questi settaggi questa vedi la mia voce ok infatti io la voce la comandavo cioè spegnevo io accendevo in base alla necessità appunto tutto tramite il mixerino ma giusto per una comodità ma avrei potuto farlo benissimo anche con il Behringer XR18 sentiamo cosa dico vedi sono un po' cieco come vedete l'audio a parte le classiche diciamo sbavature dello streaming del web l'audio della batteria è mio ok io avevo tutto comodo anche le canzoni anche l'audio della 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 come la voglio io giusto mi pare ovvio quindi come vedete anche l'audio eventuale di una sequenza era ottimo ed era tutto tutto rigorosamente in diretta ok torniamo a noi torniamo a noi e andiamo a vedere la strumentazione vera e propria che ho utilizzato molti diranno guardando questa cosa ma vabbè ma ci sono software che lo fanno ad esempio il favoloso veramente top fra le altre anche gratis OBS è un software per il quale si può utilizzare per fare proprio dirette streaming ma la cosa non cambia tu hai una batteria la prima cosa in assoluto che ho facendo varie ricerche su internet è questo cavetto fantastico preso su Amazon questo qui un tablet che andavo su Facebook da qui telecamerina un semplicissimo mixer della Behringer con entrata USB altro mezzo per me fondamentale durante il periodo Covid per creare le dirette è stato esattamente questo mixer l'XR18 è un gioiellino per situazioni ovviamente medie io con questo ci faccio veramente tutto dove in quelle situazioni dove quando vado a suonare dove richiede la batteria amplificata e anche i miei ritorni io cioè i miei monitor io faccio tutto con un solo bisogno di portarmi altri mixer che cosa aspetta dammi quell'altro mi creo tutto qui e tutto con questo ho fatto anche per le dirette su per le dirette eeeh dio e tutto questo ho fatto anche per le varie dirette che ho realizzato durante la pandemia Covid bene avete sentito che il suono era pressoché quasi ottimo cioè nel senso con tutti i suoi pro e contro nel senso no però che pro e contro era ottimo quindi andava proprio bene invece eeeh noi la prossima volta alla seconda ci diciamo farò appunto ma no ma dai ma che schifo ma che allora io spero vi sia piaciuto il video e quindi seguite la seconda parte la prossima domenica ok ciao a tutti